I responsabili crisi, non solo economiche, ma anche di valori politici, dilacerano oggi il nostro Paese, voglio recuperare alla nostra memoria come un monito il ruolo che gli operai italiani ebbero nella lotta di liberazione. 70 anni fa, quando nei primi giorni dell'aprile del 1944 lo caparono uno sciopo generale contro l'occupazione nazista. Il comitato segreto che l'organizzò lo definì insurrezionale perché gli operai non solo si volevano al fianco dei combattenti della guerra di liberazione, ma chiamavano anche tutta la società civile a schierarsi a sostegno di quella lotta. Fu un'azione unica, in assoluto, di operai disarmati in un Paese occupato, messo a ferro e fuoco e ridotto alla pavola. Suscitò l'abbirazione di tutte le forze democratiche del mondo ed indusse gli old times a dare le notizie al mondo con entusiasmo. Gli operai arrestati a migliaia furono tutti, tutti, tutti deportati del campo di sterminio di Mauthausen. Il 70% degli operai deportati lasciò la vita e i Mauthausen eliminati con il gas. È anche da questa lotta e da questo sacrificio che nascono la Repubblica e la Costituzione.